Carlo, cosa ti ha spinto a scegliere l'Ascoli e come è nato questo forte legame con Mr. Petrone? Sicuramente i motivi per cui sono venuto qua ad Ascoli sono tanti, uno di questi sicuramente è quello che abbiamo visto sabato, la piazza che è una piazza stupenda, se ne trovano pochi in Serie C, quello è stato sicuramente uno stimolo in più. Poi il progetto ambizioso che c'è e poi sicuramente anche il mister che conosco ormai da diversi anni, con cui c'è un legame che portiamo avanti da quattro anni ormai e lo conosco bene, lui conosce bene me, e quindi sicuramente quello è stato anche un altro motivo che mi ha fatto scegliere Ascoli come piazza. Quanto entusiasmo c'è nello spogliatoio dopo la vittoria del derby e il bagno di folla a San Marco? Ma lo spirito non può essere che positivo, c'è un entusiasmo tra di noi dentro lo spogliatoio, ma anche fuori come abbiamo visto la festa domenica, sabato allo stadio, ma ce lo portiamo già dentro dal ritiro di Cascia, dall'amichevole col Barletta, dal primo giorno d'allenamento, insomma c'è un entusiasmo straripante e questo sicuramente è importantissimo per la squadra perché tutte le domeniche scendiamo con il dodicesimo in campo e quello è importantissimo. Esordio di campionato a Pistoia, che squadra andrete ad affrontare e come arrivate all'impegno? Sicuramente vogliamo iniziare benissimo il campionato perché vincere aiuta a vincere, io sono di questa idea, quindi non sarà una partita facile assolutamente perché la Pistoia è una buonissima squadra, però noi abbiamo dimostrato in questo precampionato di giocarcela con tutti, il campionato chiaramente è un'altra cosa, però già i testi di Coppa ci hanno dato qualche dritta, bisogna migliorare ancora tanto, però insomma siamo sulla strada giusta secondo me. In un'ipotetica griglia di partenza, quali squadre inserisci nei primi tre posti del girone B di Lega Pro? Sicuramente il Pisa è una squadra molto forte, ha preso un sacco di nomi, però non si fanno con i nomi le squadre, quindi vediamo durante queste prime giornate di campionato, poi c'è la Spalle che è una buonissima squadra e poi come sempre ogni anno c'è qualche outsider, come l'anno scorso è stato il Ponte d'Era nel girone dell'Ascoli, quest'anno io vedo il termo, secondo me è una buonissima squadra. Il mister ti ha schierato terzino destro contro l'Ancona, con l'arrivo di Mori credi che sia quello il ruolo adatto per te? Io terzino ho giocato molto spesso, gli anni precedenti terzino, l'anno scorso ho fatto sempre il centrale, per me è indifferente, siamo tanti in tutti i ruoli, quindi ogni settimana il mister valuterà chi secondo lui è la persona migliore che deve scendere in campo, Mori è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo giocatore, quindi ce la giochiamo tutti, vediamo ogni settimana giustamente giocherà chi se lo merita.